manerbio il memorial titassogno ha vinto giulia martino guarchè e ha vinto è arrivata anche seconda com'è stata questa gara è stata bella devo dire valentina e leuteria fatto ha avuto una bellissima idea gestita benissimo sono felice felice di aver vinto questo gran premio è un'amica e mi ha fatto veramente piacere emotivamente parlando credo vi abbia fatto piacere anche lei penso penso di sì insomma il diciamo lo scambio di sguardi ha fatto vedere di sì sedi due cavalli due cavalli super quale meglio dei due ma allora pop lady del una cavalla mia storica ormai che di solito non certo per presunzione non fa molti nazionali insomma il suo ultimo concorso è stata la fiera di verona ma quest'anno per un insieme di ragioni di piccole sfortune fisiche ha saltato abbastanza poco e quindi siccome oliva dove noi ricominciamo l'anno prossimo comincia abbastanza presto volevamo tenerla in forma ecco e quindi mi fa piacere aver vinto il gran premio con lei il mio cavallo del cuore diciamo ci capiamo al volo e di solito una velocista più che una vincitrice di gran premio insomma questo era assolutamente alla sua portata invece ramano cellist è un cavallo di otto anni che esce dal gruppo dei giovani che comprammo tre anni fa è un cavallo si fa vedere bello come sole facile rispettoso a tutte le qualità per avere un bel futuro ha già fatto delle delle belle gare ha vinto un gran premio qui due settimane fa oggi secondo le spalle della vecchietta ed è un cavallo formidabile e come trovato il percorso il percorso era abbastanza tecnico tutto sommato paolo rossato messo un bel tracciato anche in barrage tutto sommato ho vinto soprattutto perché ho fatto gli unici due doppi netti quindi era piuttosto tecnico si è dato da fare per questo memorial grazie mille complimenti grazie a te paolo a presto